Dopo la non entusiasmante prova di Dead Rising 3 su PC, un'altra delle esclusive Xbox One arriva su Steam. Stavolta tocca Rise Son of Rome. A differenza del prodotto di Capcom Vancouver, il lavoro di porting effettuato da Crytek si è rivelato di pregevole fattura, grazie anche alla qualità della quarta incarnazione del CryEngine. Dal punto di vista tecnico, il porting di Rise Son of Rome può essere considerato un successo. Primo titolo mosso dal CryEngine 4, il gioco riesce in questa incarnazione per personal computer a sfruttare egregiamente le potenzialità dell'hardware su cui viene installato, grazie a una buona selezione di effetti grafici che include regolazioni per il super sampling e il temporal alti aliasing. Troviamo anche opzioni più comuni per regolare il motion blur, la qualità delle animazioni, delle particelle e delle ombre e degli shader in generale. Anche con le impostazioni al minimo, la resa grafica di Rise è di tutto rispetto, complice allo sblocco del framerate che su Xbox One era invece inchiodato a 30 frame per secondo. L'unico aspetto grafico inaccessibile dal nostro codice preview è la risoluzione delle texture, forzatamente lasciate al minimo, dettaglio che non ha comunque inficiato la nostra prova. Insomma, da quanto abbiamo potuto constatare nei due livelli provati in quest'anteprima, Rise Son of Rome sembra aver superato in denne il passaggio da Xbox One a PC, in buona parte grazie alla versatilità e la scalabilità del CryEngine, che ancora una volta non delude quando utilizzato dagli studi proprietari. A livello ludico, purtroppo, il titolo mantiene quelle artificiosità del sistema di combattimento che banalizzano un gameplay già di per sé semplicistico. L'impossibilità di concatenare più di due attacchi dello stesso tipo nelle combo in un sistema con solo due tipologie d'attacco riduce fortemente le possibilità tattiche del giocatore, e questo va contro qualsiasi concetto di divertimento nel genere action. Rise Son of Rome è il secondo titolo dell'ottava generazione videoludica ad approdare sui rigogliosi prati della piattaforma PC. A differenza del predecessore Dead Rising 3, la versione PC di Rise mostra una maggiore cura nell'opera di porting, complici della natura multipiettaforma del CryEngine 4 e l'esperienza degli sviluppatori. La resa grafica è spettacolare a qualsiasi impostazione, un elogio alla scalabilità e alla stabilità dell'engine Crytek, che trascende il limite hardware dei 30 fps, a patto di avere un computer all'altezza, per offrire un'azione fluida come quella dei congeneri.